Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Torno a registrare dopo diverso tempo, quindi io felicissima. Allora, la nostra storia di oggi racconta di due giovani accusati di un fatto davvero orribile. Preferisco non anticiparvi nulla e partire direttamente dai fatti. Questo pezzo lo attaccherò all'inizio del racconto, perché in realtà sono già partita a raccontare, però mi sono dimenticata di dire una cosa importantissima che ve la dico ora. Mi raccomando, questo è un video molto delicato e descriverò delle situazioni che potrebbero infastidirvi e soprattutto se ci sono donne in stato di gravidanza o mamme che hanno appena partorito, valutate se guardare questo video, anzi io vi consiglio di non guardarlo affatto, perché potrebbe turbarvi molto. Mi ricordo di me stessa, in quanto ero sensibile ad ascoltare certe cose, quindi per piacere. Non vi preoccupate per la visualizzazione, dovete stare bene e quindi evitate questo video. Rocco e Laura, che sono i protagonisti della nostra storia, classe 1990, quando accadono i fatti, sono fidanzati da circa un anno e mezzo. Vivono a Pico, un suggestivo borgo di circa 3.000 abitanti arroccato su una collina in provincia di Frosinone. Laura ha 21 anni, non lavora, ma aiuta di tanto in tanto la madre a fare le pulizie, mentre Rocco lavora come parrucchiere. Sono molto giovane appunto e vivono la loro relazione, prima frequentandosi in modo platonico e dopo circa due mesi iniziano ad avere dei rapporti intimi, ma non sempre protetti per loro stessa ammissione. Il 15 novembre del 2012, Laura viene ricoverata d'urgenza all'ospedale di Cassino e quando la visitano si accorgono che ha qualcosa che proprio non va. Ha delle lesioni molto strane all'utero e ai genitali, che fanno inizialmente pensare addirittura ad un brutto tumore, uno di quelli molto invasivi. Così la inviano immediatamente al dottor Petrucci, responsabile del reparto di ginecologia, il quale constata un utero molto grande rispetto alla norma, la presenza di un ormone della gravidanza e queste lesioni anomale. Ma lui capisce subito che non è un tumore. L'unica spiegazione possibile di quel quadro è un parto avvenuto di recente, ma non si sa dove, non si sa come, dal momento che la giovane ha una grave sepsi in corso. Stabilizzata Laura, il giorno dopo, 16 novembre, dall'ospedale parte un fax ai carabinieri di Cassino. Sono circa le 14 e segnalano proprio la presenza della ragazza, ricoverata il giorno prima, che ha avuto un probabile parto in casa. È molto confusa e riporta soprattutto un racconto molto strano, sia rispetto al parto che sul luogo dove il parto è avvenuto e soprattutto su dove sia il bambino appena nato. Quando viene ascoltata in ospedale, Laura racconta di aver avuto l'ultima mestruazione il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Si era un po' insospettita e quindi aveva chiesto a il suo fidanzato Rocco Mattia di acquistarle un test di gravidanza, ma lui non glielo compra e allora lei a quel punto desiste. Ho avuto paura, dice, ma i mesi passano e lei non ci pensa. Il ciclo non torna, ma il fisico, a suo dire, non cambia più di tanto. Laura è di corporatura piuttosto robusta e così non nota particolari differenze nel suo corpo. Afferma anche di non aver mai sentito muoversi nulla dentro di sé, di non aver mai sentito il suo piccolo dentro la pancia. Così afferma di non aver mai sospettato né capito di essere incinta. Non l'ho comprato e basta il test di gravidanza da sola, taglia corto chi glielo chiede. E ammette che a un certo punto, è vero, inizia anche ad ingrassare, ma mangia molto, dice, perché è molto stressata ed è quello il motivo. Anche la madre di Laura afferma di non sapere nulla della gravidanza della figlia e di non essersi accorta della pancia di Laura che vive con lei. La figlia in passato era dimagrita molto, ma poi improvvisamente mangia sempre in maniera incontenibile. Quindi anche la madre imputa le rotondità di Laura ad un aumento ponderale. Era ingrassata, dice, ma non le si vedeva il pancione e lei non mi raccontava nulla. La famiglia di Laura, sia la madre che la sorella Veronica, non si spiegano perché Laura non abbia mai parlato, perché la loro non è una famiglia bigotta, dicono rigida, che avrebbe disopprovato la nascita di un bambino al di fuori del matrimonio. Ma Rocco Mattia che ci racconta? Che cosa dice quando scopre che Laura era incinta? Rocco racconta di essere venuto a conoscenza solo a fine agosto, quindi tre mesi prima del parto, dell'assenza del ciclo di Laura. Quindi racconta una versione diversa. Gli aveva subito chiesto spiegazioni, ma lei era diversa e a lui sta bene così. Laura gli avrebbe detto, Sai, è una cosa normale, succede anche a mia mamma e a mia sorella. Così Rocco si tranquillizza. Insomma, sono robe da donne, se lo dice lei. Certamente non mi riguardano. Ma se i due hanno rapporti sessuali, come può Rocco non aver mai notato una pancia di 6-9 mesi? Ma c'è una spiegazione anche a questo. Laura si vergognava perché era ingrassata e quindi da tempo non faceva più l'amore con lui senza la maglietta. Si scopriva solo la parte inferiore e teneva sempre la parte superiore del vestiario. Dunque, la versione di Rocco Mattia, quando scoppia questo bel casino, è molto semplice. È molto lineare. Io non sapevo nemmeno che Laura fosse incinta. Quindi non ho alcuna responsabilità per quanto è avvenuto. Anzi, la parte lesa, in effetti, sono io. Laura inizialmente conferma questa versione di Rocco e si prende su di sé ogni colpa. La famiglia di Laura e di Rocco, manco a dirvelo, anche loro non sapevano nulla. Nessuno dunque sa, nessuno dunque coglie, finché dopo 9 mesi dall'ultima amministrazione di Laura, perché è così la natura ed è così che va il mondo dalle origini, quello che nessuno ha voluto capire o vedere, se davvero fosse così, reclama giustamente attenzione su di sé e lo fa in una maniera che non lascia sconti a nessuno. Lo vedremo. 15 novembre del 2012, casa di Laura, mattina. La madre si accorge che la figlia ha delle perdite strane della vagina, acquose e con odore davvero maleodorante. Tanto che l'intera casa puzza come una latrina. Laura, poi, è da giorni che non sta bene, lo vedremo, ma si rifiuta categoricamente di andare in pronto soccorso perché dice che ha troppa paura dei medici. Veronica, la sorella, si reca dunque dal medico di famiglia per chiedere almeno un consiglio a lui. E il medico rimane molto perplesso da ciò che gli viene descritto e risponde che è impossibile che dalla vagina esca acqua in quella maniera e di preoccuparsi anche tanto perché non è da sottovalutare. La ragazza dice che deve andare subito in ospedale. La famiglia a questo punto è finalmente allarmata e preoccupata. E così anche la famiglia del fidanzato di Rocco Mattia inizia ad esserlo. Hanno saputo che Laura non sta bene e che non è un banale malanno. Infatti, la mattina del 15 novembre, Jessica e Maria, sorelle e madre di Rocco, telefonano a casa Nardi e anche loro spingano affinché la cuciuta Laura si faccia visitare. Quel giorno chiamano più volte, tentano di parlare con Laura, ma la ragazza sembra stare sempre più male e un crescente senso di panico inizia a diffondersi. Le volte in cui Laura appoggia l'orecchio al telefono, piange, urla, si lamenta, ma assolutamente rifiuta di andare in pronto soccorso o un'ambulanza. Rocco nel frattempo è a lavoro, ma alle 12 esce in anticipo insieme a sua madre e corre da Laura. La madre di Rocco, entrata in casa di Laura, rimane sconvolta dall'odore che regna nell'ambiente. Una puzza tremenda di cadavere la definisce proprio così. Pensa che la ragazza abbia qualcosa di brutto davvero, probabilmente un tumore invasivo che le sta proliferando in pancia e marcendo in grembo. E quindi gli dice presto, andiamo in ospedale. Alla fine Laura peggiora così tanto finché non riescono finalmente a trasportarla in ospedale. Viene subito ricoverata e il giorno dopo la sua assurda e sconvolgente situazione viene portata all'attenzione dei carabinieri perché sicuramente qualcosa non va in questa storia. Così i carabinieri arrivano alla sua stanza d'ospedale per sentirla e soprattutto per capire dove sia quel bambino di cui nessuno parla. Laura dunque racconta loro una versione, la prima versione che rende, che però poi ritratterà. Racconta di aver partorito sei giorni prima, ascoltatemi bene, dunque il 9 novembre. Attenzione questa è una data molto importante. Riferisce di non sapere di essere incinta finché alla fine non va in travaglio in casa e quando questo avviene lei è da sola. Nessuno dei suoi familiari né tantomeno il suo fidanzato ne erano a conoscenza. Dal momento che nemmeno lei stessa lo immaginava. I dolori erano aumentati dalla sera prima e dunque si era recata in bagno con lo stimolo ad evacuare. Si era appoggiata al water e si era accorta di avere delle tracce di sangue. Spaventata allora si era rifugiata nella vasca per lavarsi ed è allora che sente uscire qualcosa. Si china e vede un piedino, allora lo afferra, lo tira e dal suo corpo esce un bambino. Dice che è una bambina ma non piange, sembra non respirare. Laura è sotto shock e dunque si rialza a fatica, mette il bambino in una delle borse della palestra che usa per andare a zumba e poi infila la borsa dentro a un grande sacco di limondizia che mette fuori dalla porta. Questo è un racconto veramente agghiacciante. Il padre di Laura poi in effetti nota questo sacco maleodorante fuori dalla porta di casa e prontamente lo porta nel cassonetto dei rifiuti. Lui pensa al padre che si tratti di assorbenti di panolini sporchi di mestrazioni della figlia Laura. Questo racconto in realtà non convince e genera moltissimi dubbi. Il medico legale che verrà chiamato a fare una perizia su quanto avvenuto ritiene poco probabile che Laura possa aver partorito in questo modo da sola soprattutto per una primipara ovvero una persona che partorisce per la prima volta. Una persona poi con la sua costituzione e corporatura piuttosto robusta non deve essere stato affatto semplice, anzi lui dice altamente improbabile essersi piegata in avanti con i dolori del travaglio e aver avuto la forza e la prontezza di compiere la manovra del parto e estrarre il bambino. I carabinieri quindi si recano subito al centro di smistamento e di lavorazione dei rifiuti gestito dalla SAF di Colfelice e scoprono purtroppo che i rifiuti provenienti dal comune di Cevrano quindi quello che fa a capo anche alla casa di Laura sono già stati scaricati e lavorati meccanicamente. A questo punto le forze dell'ordine di Cassino iniziano ad indagare su Laura ma anche su tutto il nucleo familiare di Laura e del fidanzato Rocco Mattia. I familiari di Laura come vi ho detto cascano abbastanza dal pero nei primi giorni di ricovero della ragazza pensano che si sia trattato di un aborto spontaneo in una fase iniziale solo dopo dicono capiscono la portata di ciò che è realmente accaduto cioè un parto a tutti gli effetti avvenuto in casa dentro alla vasca da bagno senza alcuna assistenza sanitaria sia in quel momento che soprattutto nel post parto della nascita di un bambino nato completo e dell'occultamento del corpo di questo bambino appena nato ed è proprio qui che avviene l'inghippo. Come vi ho già detto Rocco Mattia il fidanzato di Laura ha da subito dichiarato di non essere mai stato a conoscenza della gravidanza della fidanzata mentre Laura il 16 novembre si trova piantonata in ospedale e dichiara agli inquirenti di aver partorito il 9 novembre ripeto Rocco lo stesso giorno del 16 nelle stesse ore in cui Laura viene ascoltata e dichiara ciò che vi ho appena raccontato si presenta spontaneamente e molto sospettosamente alla casarma dei carabinieri insieme ai genitori e agitato fornisce un alibi proprio per il 9 novembre il 9 novembre io ero a lavoro dice non l'ho aiutata io ma come fa a sapere quanto ha dichiarato Laura se lui non era presente all'interrogatorio e ha sempre affermato di non aver mai saputo nulla i carabinieri non l'hanno chiamato a colloquio e inoltre la data del 9 novembre non è stata resa nota qualcosa non torna e ovviamente gli inquirenti iniziano a sospettare che i due fidanzati fossero ben consci nella gravidanza che fossero in accordo e che stiano soprattutto nascondendo qualcosa quindi diciamo che in buona fede o meno questa manovra di Rocco gli crea molti problemi Rocco e la famiglia invece dichiarano al processo una cosa diversa ovvero che sono stati i carabinieri a chiamarli e ad informarli del parto di Laura avvenuto in data 9 novembre ma i carabinieri negano fermamente perché solo il magistrato ne era conoscenza quindi hanno il sospetto che Laura abbia informato Rocco in ospedale quando loro hanno fatto una breve pausa durante appunto questo interrogatorio anche per far riposare la ragazza che era evidentemente provata rientrando nella stanza si erano resi conto che Laura era al telefono e scambiava alcuni messaggi probabilmente con Rocco quindi sembrerebbe che i due ragazzi si siano accordati su quale versione rendere ma che lo stiano facendo in una maniera poco pulita quando controllano i tabulati telefonici scoprono che il 16 novembre in effetti Laura e Rocco si erano scambiati alcuni messaggi ma di alcuni di questi messaggi è rimasta soltanto una traccia ma non c'è il contenuto dei messaggi quindi sono stati tutti cancellati sono stati tutti cancellati ma da chi? le versioni stanno per cambiare e le strade di Rocco e di Laura per dividersi infatti messi alle strette e contestati sul loro atteggiamento i due fidanzati inizieranno ad accusarsi l'un l'altro e le rispettive famiglie pure inizieranno a farsi la guerra le condizioni di Laura a questo punto si aggravano e quindi due giorni dopo il parto il 17 novembre dopo l'interrogatorio la ragazza viene trasferita all'ospedale di Frosinone in questo frangente la sorella di Laura Veronica vede Laura consegnare il suo cellulare a Rocco la versione ufficiale è che gliel'abbia dato per cercare un caricabatterie Laura afferma che in questo momento probabilmente il fidanzato ha cancellato i messaggi dal cellulare perché quando il telefono le ritorna indietro mancano proprio alcune delle loro conversazioni Rocco Mattia afferma invece che la ragazza gli aveva consegnato il telefono privo della scheda sim inserita nel telefono della madre chi dice la verità comunque molti molti messaggi soprattutto quelli di Rocco sono stati cancellati e questo è sospetto in questo momento di primo attrito Laura incalzata anche dalla sorella Veronica vuota il sacco e racconta una versione totalmente diversa di come si siano svolti i fatti la goccia che fa traboccare il vaso e scoprire che il suo fidanzato la vuole lasciare e che sta sentendo un'altra ragazza mentre lei è in ospedale Laura dice di essersi sentita tradita e che si sia sentita franare il mondo addosso e finalmente racconta quella che definisce l'unica verità ovvero che sia Laura che Rocco erano entrambi a conoscenza del bambino ed era stato proprio lui a farla partorire ma non il 9 novembre bensì lunedì 5 novembre giorno universale ahimè di chiusura dei parrucchieri momento molto triste per tutte noi e ahimè momento molto triste anche per Rocco perché se la data è davvero quella del 5 novembre lui non avrebbe un alibi così Laura inizia il suo lungo e dettagliato racconto partendo dal giorno prima 4 novembre giorno in cui sono iniziate le doglie 4 novembre del 2012 tardo pomeriggio Laura e Rocco vanno ad un centro commerciale della zona insieme a loro sono presenti anche Jessica sorella di Rocco un'amica di nome Denise e il suo fidanzato mentre stanno per parcheggiare la macchina Laura sente un fortissimo stimolo ad urinare e qualcosa di bagnato le esce dalle parti intime riferisce subito a Rocco questa sensazione e chiede alle due ragazze di accompagnarla nel bagno dove si accorge che effettivamente il salva slip è umido ma non ci sono tracce di sangue o di altro colore quando esce informa Rocco che forse qualcosa non va ma lui minimizza e gli dice che sarà solo un po' di urina e le propone di andare a mangiare un bel pezzo di pizza così vanno in pizzeria ma Laura inizia a sentire mal di pancia dei doloretti lievi piccoli crampi e questo continua per tutta la notte tra il 4 e il 5 novembre poi però il 5 novembre i doloretti diventano sempre più forti in questo tempo Laura non chiede aiuto nemmeno i suoi genitori e fratelli non chiede loro di portarle in pronto soccorso perché dice di avere davvero troppa paura accetterebbe di farlo solo con Rocco che è al corrente della sua situazione e che è anche il suo fidanzato così passata la notte la mattina del 5 novembre lei rimane a casa in uno stato confusionale da un lato pensando che sia un falso allarme e dall'altro che sia ora del parto ma non fa nulla ad ora di pranzo la raggiunge Rocco e i due pranzano sono soli in casa si stendono sul letto a questo punto Rocco secondo Laura sempre insiste per avere un rapporto sessuale Laura non vuole perché ha mal di pancia sta molto male ma lui insiste allora provano ma Laura sta sempre peggio Rocco continua ad insistere le preme forte sulla pancia finché lei lo allontana alzandosi corre in bagno perché sente lo stimolo ad evacuare sente una forte pressione quindi si mette sulla tazza del water per vedere se ha esigenza di fare pipì o altro ma nulla a questo punto si accorge che perde del sangue da lì sotto quindi decide di entrare nella vasca prima si mette in piedi ma la pressione continua ad aumentare lei dice sentivo proprio qualcosa che volevo uscire e a quel punto si mette seduta con le gambe alzate e piegate proprio come farebbe una partoriente continua a notare che dalla vagina le scivola giù del sangue lungo le cosce così chiama Rocco ma lui non accorre continua a chiamarlo finché lui con molta calma la raggiunge aiutami Rocco sento qualcosa che esce Rocco le ripete solo di stare tranquilla Laura gli chiede a quel punto di chiamare qualcuno di fare qualcosa di aiutarla ma lui ancora le dice solo di stare tranquilla a quel punto Laura afferma di aver sentito un dolore veramente molto forte uno strappo forte e poi dice non me lo sono fatta da sola questo strappo è stato Rocco quindi afferma che è stato proprio Rocco a tirare con forza il bambino dal piedino e lei ne è certa perché ha sentito il piedino del bambino allungando la mano quando il bambino esce Laura lo guarda un momento e si accorge che non è più dentro di lei non lo prende mai in braccio non lo tocca è in mezzo alle sue gambe e si accorge solo che è una bambina Laura dice che la testa della bambina non punta verso i suoi piedi ma verso di lei quindi fa anche intendere che fosse podalica e che sia uscita proprio dai piedini e afferma che la bambina non si è mai mossa non ha mai pianto non sembrava respirare lei non ha mai sentito nulla e non ricorda neanche molto di quel momento ad esempio non sa assolutamente spiegare come le sia stato tagliato il cordone umbilicale non sa come sia avvenuto né se la placenta sia uscita ve l'avevo detto che era un racconto davvero sconvolgente è avvenuto secondo il racconto di Laura un parto in casa nel più assoluto degrado e pericolo un padre che va a tirare la figlia per un piedino per farla uscire dal corpo della madre un parto da macello da macellaio un racconto che però molti ritengono inverosimile in effetti perché è troppo agghiacciante per poterci credere Laura continua dicendo che lei non ha nemmeno spinto per partorire ma che è stato proprio Rocco che ha tirato e tirato strappando la bambina dal suo ventre e che tutto è finito così loro non hanno parlato di cosa fare né di chiamare il 118 per prestare soccorso alla bambina e a Laura Rocco le dice solo di stare tranquilla e lei si fida le chiede dove sia la borsa della palestra e lei glielo dice così Rocco porta via la piccola appena nata e la mette dentro al borsone senza avvolgerla senza metterle un asciugamano attorno senza prestarle attenzione Laura si è domandata a quel punto se Rocco stesse andando a chiedere aiuto ma non le sembra strano che sua figlia sia stata messa dentro ad una borsa con cerniera come un asciugamano o come un paio di scarpe Rocco quindi va via e poi rientra e la bambina non c'è più Laura capisce che lui non ha chiesto aiuto al 118 ma non gli chiede più di tanto la borsa è sparita la bambina pure lei si alza dalla vasca lui le dà una mano a vestirsi poi lei prende un antidolorifico e solo dopo quando lei gli chiede dove sia la bambina lui gli dice solo tranquilla tutto a posto e allora lei pensa ok la bambina magari sarà con qualcuno sarà in buone mani insomma secondo Laura è tutta colpa di Rocco ma il suo atteggiamento è passivo lei non chiede aiuto non chiama la polizia non cerca sua figlia non l'ha mai stando al suo racconto nemmeno toccata nemmeno presa in braccio una volta l'ha semplicemente espulsa da sé in tutti i sensi il suo racconto è pieno di lacune ed è molto molto difficile capire se la colpa sia tutta di Rocco tutta di Laura o di entrambi se Laura sia stata manipolata e costretta da Rocco se i due fossero complici a questo punto il racconto di quel folle pomeriggio prosegue e le versioni dei due sono diversissime dopo aver partorito Laura dichiara di essere andata a casa di Rocco ed essere rimasta in compagnia della madre di lui mentre il fidanzato esce per diverse ore la madre di Rocco racconterà anche piuttosto arrabbiata perché il ragazzo era in ritardo e doveva svolgerle alcune commissioni come prendere dei peperoni da un conoscente Laura afferma di essere stata molto male quel giorno nonostante l'antidolorifico ed aver macchiato il sedile della macchina di Rocco tanto che lui le aveva anche dato un asciugamano alla futura suocera che la guarda un po' stranita Laura dice di non sentirsi bene per via del ciclo che le ha appena tornato poi cena da Rocco con la famiglia di lui e infine lui la riaccompagna a casa ma Laura sta così tanto male che chiede a Rocco di fermarsi ad un bar per prendere una camomilla calda in effetti Rocco quella sera intorno alle 23 le invia un messaggio è attestato che sembrerebbe confermare il racconto di Laura perché le dice ti amo amore e mi dispiace tanto che ti fa male la pancia Rocco invece dichiara che sì il 5 novembre sono stati insieme ma che Laura non ha assolutamente partorito il 5 novembre lui sostiene di essersi svegliato alle ore 10 di aver fatto colazione al bar Manzoni di essere andato da Laura di aver pranzato in casa con i genitori di Laura e poi di essere uscito con la ragazza per andare al centro commerciale alle 18 sono andati a prendere la sorella di Rocco Jessica e poi tutti e tre sono andati di nuovo al centro commerciale per cambiare un capo di abbigliamento e poi sono andati a casa di Rocco con la famiglia di lui hanno cenato e poi insieme a Jessica lui ha reaccompagnato Laura secondo Rocco Laura stava benissimo e soltanto in macchina aveva riferito di avere qualche doloretto alla pancia che lui aveva attribuito a qualcosa di banale Rocco poi era stato sempre in compagnia della ragazza e non era mai uscito da solo così come lei aveva affermato come vi ho detto per Rocco è il giorno 9 quello del parto giorno in cui Rocco ha un alibi e sostiene di aver lavorato tutto il giorno la madre di Rocco racconta che il 5 novembre i due sono rincasati da lei nel pomeriggio che Rocco aveva una borsa in mano che si era acquistato una felpa al centro commerciale poi Rocco la sorella Jessica e Laura erano usciti insieme per andare di nuovo al centro commerciale a cambiare un paio di jeans e anche la sorella di Rocco racconta questa versione racconta di essere uscita insieme a Rocco e Laura in turno alle 18 per andare al centro commerciale ricorda che si erano fermati anche da Piazza Italia dove Rocco aveva cambiato un paio di jeans e Laura aveva acquistato una matita occhi dopo avevano fatto altri giretti per cena erano rientrati a casa avevano cenato tutti insieme Laura aveva mangiato con grande appetito alle 22 Laura era stata riaccompagnata a casa sia da Rocco che da Jessica camminava benissimo sembrava stare bene non sembrava assolutamente reduce da un parto da macellaio fatto in casa quindi diciamo che la versione di Rocco e della sua famiglia anche a distanza di tempo coincide ciò che Laura racconta invece è diversissimo quindi qualcuno qui o ha preso un granchio o sta mentendo va anche detto che fino al 27 novembre Laura difende Rocco da tutto e da tutti assumendosi la colpa di ogni cosa ma il primo dicembre Veronica informa appunto sua sorella Laura che Rocco è interessato ad un'altra ragazza e che vuole lasciarla proprio quando lei ha più bisogno così la crisi tra i due ragazzi e le rispettive famiglie esplode in modo netto il giorno in cui Rocco va in onda la vita indiretta il 4 dicembre i due sono sempre più distanti Laura inizia a confidarsi con la sorella che tenta di farla confessare il 6 dicembre in una telefonata con la sorella Laura dice questo è stato lui che nel mio silenzio ha preso la bambina l'ha messa in una borsa della palestra e l'ha portata via da qui Laura rimarrà sempre fedele a questa versione accusando Rocco di essere suo complice e assumendo un ruolo nettamente passivo e suddito nei suoi confronti in questa telefonata Veronica la sorella di Laura assume molto il controllo della situazione chiede alla sorella di aprirsi la imbecca le dice di dire la verità le dice che Rocco deve pagare per ciò che le ha fatto Laura allora le dice sì quel lunedì lui voleva fare e mi schiacciava a parte che lo faceva sempre mi si buttava sopra mi schiacciava la trippa e mi faceva male lì sotto io glielo dicevo sempre che mi faceva male lui continuava forse nello spingere ha cominciato ad uscire Veronica dunque le chiede quindi ti ha aiutato lui e Laura dice sì Veronica le dice dunque tu stavi nella vasca e lui tirava e lei dice sì e sto bambino dove lo è andato a buttà Laura risponde al secchio Laura racconta anche di non ricordarsi quasi nulla come se fosse semi inconsciente non ricorda che ha togliato il cordone non sa come è uscita bene la bambina se di piedi o di testa di averla vista solo di sfuggita da queste telefonate e messaggi Veronica sembra molto sicura che il responsabile sia Rocco Mattia anche se poi la donna dirà che era molto arrabbiata perché a suo dire Rocco Mattia aveva rovinato la vita di Laura ma non si prendeva alcuna responsabilità in merito lei non accettava la versione che il fidanzato della sorella non sapesse nulla e che non avesse mai sospettato nulla e non accettava che a pagare fosse solo la sorella e la sua famiglia Veronica quindi viene considerata dalla difesa di Rocco Mattia quasi come una regista che quindi ha mosso i fili per far incolpare del tutto Rocco in un'altra telefonata con Veronica sembra quasi che Laura stia leggendo qualcosa di scritto una sorta di memoriale dove racconta i fatti come se leggesse un tema e la sorella Veronica mentre Laura parla la interrompe la corregge su quale parola dire però Veronica e Laura si difendono loro sono due sorelle unite che tentano di rielaborare di affrontare l'accaduto di aiutarsi a questo punto è molto chiaro che non soltanto i due ragazzi si stiano accusando a vicenda ma anche le rispettive famiglie entrambi tentano in qualche modo di ripulire il proprio nome e scagionarsi dalle colpe perché in fondo in fondo forse per quell'anime innocente sentono di essere tutti responsabili il giorno in cui Laura si aggrava per via della bruttissima infezione che ha l'utero e viene trasferita a Frosinone la famiglia di Rocco Mattia va a trovarle in ospedale credo che sia stata l'ultima volta in questo momento di incontro Laura piange e si scusa molte volte con Rocco e con la sua famiglia per quello che ha combinato ha timore di essere rinnegata da loro per ciò che ha fatto e anche la madre di Laura è molto gentile con Rocco ma Veronica a sorpresa si scaglia contro di lui accusandolo tanto che tutti rimangono molto male Rocco mutolisce così pure anche la madre di Rocco si crea una prima frattura tra le due famiglie Veronica insiste dicendo che il ragazzo deve assumersi le sue responsabilità materiali e morali la famiglia di Rocco successivamente insisterà sul fatto che già il 16 novembre quando ancora si parlava di aborto spontaneo e loro stessi non erano a conoscenza della gravità della situazione la famiglia di Rocco Mattia parlava di un bambino nato morto e sparito e metteva in campo il proprio avvocato per questo Veronica inizia a dubitare di Rocco e della sua famiglia spingendo la sorella a raccontare quella che secondo loro è la verità Laura non poteva aver fatto tutto da sola certo ci sono molte perplessità in queste due versioni può una donna che ha partorito da poco in quelle condizioni alzarsi e uscire per andare a cena dai futuri suoceri Laura afferma che così è stato grazie anche all'antidolorifico l'era riuscita ad uscire per non insospettire i genitori di Rocco molto invadenti e ipercontrollanti va detto che Laura lo hanno accertato i medici si era ridotta al momento del ricovero in uno stato davvero critico ha proprio rischiato la vita aveva una sepsi grave che coinvolgeva la vagina e l'uretra e non sono però riuscite a risalire alla reale data del parto pensate che la ragazza ha riportato una prognosi di oltre un anno è stata operata per ricostruire il tratto urinario gravemente danneggiato e per lungo tempo ha dovuto portare la sacca dell'urina con catetere va anche detto che il giorno 9 una zia di Laura ha testimoniato che la ragazza stava già molto male che faceva avanti indietro dal divano che aveva vomito che era svenuta due volte quel giorno quindi stava male perché aveva partorito il 5 o perché stava per partorire a conclusione di questa triste contorta storia la corte ha dato credito alla versione di Laura ma non ci sono in effetti né colpevoli né innocenti in questa storia Rocco e Laura non sono stati accusati di infanticidio perché non hanno potuto stabilire se la bimba fosse viva al momento del distacco dall'utero di Laura e se non era viva non possono averla uccisa Laura e Rocco sono stati anche assolti per l'occultamento di cadavere della bambina perché non potendo dimostrare appunto che lei fosse viva al momento della nascita tecnicamente anche il corpo della povera bambina non poteva essere considerato cadavere orribile Rocco è stato anche assolto per le lesioni verso Laura in quanto le hanno considerate colpose e quindi perseguibili solo a seguito di una querela che Laura però non ha mai presentato di questa bambina rimane solo un lei non c'è un nome non c'è un pensiero che fosse durato più di un battito e che sia stato felice o gioioso né prima né durante né dopo sinceramente noi è prima di tutto lei che vogliamo ricordare oggi il suo travagliato e ingiusto ingrasso in questo mondo che mai come in questo momento ci appare davvero insensato non so in che modo Rocco e Laura stiano continuando le loro vite ma sono abbastanza sicura che questa storia abbia lasciato grossi strascichi io vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 grazie a tutti